Taranto non è soltanto criminalità. I recenti episodi hanno fatto balzare la città ionica agli onori della cronaca nazionale per il ferimento dei due poliziotti. C'è anche la parte buona della città, quella della solidarietà. Un esempio giunge da espedito al Farano, un commerciante tarantino, che ha voluto rivolgere un gesto di affetto nei confronti di Biaggio ed Angelo, i due poliziotti feriti sabato scorso. Un gesto semplice, ma significativo. I doni sono stati consegnati ad un funzionario della questura di Taranto, nella sede di Via Palatucci. solidarietà, affetto e rispetto per le istituzioni, in particolare per coloro che con il loro operato ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini. C'è anche una Taranto della solidarietà, una Taranto che vuole esternare un affetto, un ringraziamento e un riconoscimento, un grazie a queste persone che lavorano, rischiano la pelle tutti i giorni, in questo caso veramente hanno rischiato la pelle affinché la città sia più sicura. Quindi questo è un nostro grazie a queste persone. Il suo messaggio personale dei due agenti, Biaggio e Angelo? Esiste una Taranto che vi vuole bene e quindi speriamo solamente che loro ritornino al più presto a proteggerci, perché solo in questo modo, solo con le forze dell'ordine presenti in città, noi viviamo più serenamente. E quindi ha deciso di fare questo regalo? È un gesto, è un gesto, è come quando si vanno a trovare due amici in ospedale e gli si porta un qualcosina giusto come gesto di affetto, ecco, niente di più. Grazie. 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 Grazie.